Musica Rieccoci presso la Galleria L di Preganziol in occasione della mostra collettiva dal titolo Variazioni Estetiche Espongono gli artisti Lorenzo Cassanelli, Carlo Guidetti, Silvia Moscati, Stefano Ughi Per Carlo Guidetti l'arte è il mezzo fondamentale che l'uomo ha per creare empatia e per concretizzare questo suo proposito ideale l'artista si avvale della fotografia che gli declina verso la sua personale concezione estratta mutuata dalla realtà oggettiva in tal modo l'artista crea un soggetto ideale capace di simulare interesse e recondite emozioni nello spettatore Abbiamo con noi Carlo Guidetti, fotografo che alla base delle sue opere si può intravedere un riferimento filosofico al movimento dell'estetica paradisiaca e chiediamo all'artista di esporci quali sono le caratteristiche di questo movimento La caratteristica fondamentale è quella di proporre delle opere che non si pongono in contrapposizione con chi le guarda ma che si mettono in assonanza con chi le guarda in modo tale da avere una visione giustamente paradisiaca dell'immagine per cui colori chiari, situazioni non drammatiche ma di incoraggiamento verso quello che potrebbe essere anche il futuro Le mie opere rappresentano un'elaborazione digitale di scatti su dei fuochi d'artificio che trasformati al negativo portano il fondo dell'immagine al chiaro verso una luminosità e non verso la notte come poteva essere l'originale del fuoco d'artificio e la manifestazione delle scie che i lapilli di un fuoco lasciano che appaiono con i colori complementari a quelli che sono originariamente rappresentati da queste strisce di fuoco che sono l'esplosione di un fuoco d'artificio Lo sperimentalismo ideale e tecnico unitamente all'uso di particolari supporti che si osserva nelle opere di Stefano Uggi ci permettono di comprendere come per l'artista la compenetrazione fra varie branche del sapere sia essenziale per l'arte ma soprattutto per la cultura Ma non è tutto, Stefano Uggi così facendo si propone anche di far scaturire nell'osservatore emozioni e curiosità che lo inducono ad uno scarto ideale Abbiamo con noi l'artista Stefano Uggi al quale chiediamo di esporci quali sono le caratteristiche che compongono le sue affascinanti opere Tendenzialmente in questo periodo sono stati lavori su legno incurvati che si rifanno a mie esperienze precedenti fatte nel campo dell'acustica per cui pannelli concavi e convessi perché secondo me circondano bene lo spettatore che viene inserito e immerso in un'esperienza visiva e percettiva dell'opera Dunque si evince anche un riferimento ad un rapporto con la musica? Sicuramente con la musica e con l'acustica che sono stati due settori che ho battuto negli anni precedenti che comunque mi hanno sempre affascinato perché avvolgono la persona e prima si diceva che l'opera deve parlare allo spettatore adesso sto facendo delle opere dove veramente il quadro vibra e produce dei suoni che fa delle domande allo spettatore Si evince una dimensione intima osservando i soggetti di Lorenzo Cassanelli infatti come afferma l'artista stesso i suoi soggetti puntuati dalla natura, dai simboli e dalle persone in movimento gli permettono di far emergere emozioni e sensazioni che favoriscono il dialogo fra le persone e di conseguenza una dimensione interiore che induce alla condivisione armonica ed empatica dei pensieri fra gli uomini Per Silvia Moscatti l'arte è un bisogno interiore che la soddisfa solo quando crea le sue tematiche di impronta sociale vicine ai temi dell'ecologia e del consumismo ci inducono a riflettere sulla condizione umana odierna e quindi a tentare di trovare una via d'uscita per questo mondo così disastrato abbiamo con noi Silvia Moscatti alla quale chiediamo di introdurci il suo concetto di perdita punto focale delle sue opere Io mi baso su una domanda noi cosa siamo? Siamo ciò che spendiamo e la nostra capacità di acquistare, di spendere che ci determina una nostra posizione nel sociale e purtroppo tante volte è così e allora la perdita che è sempre nel nostro linguaggio ha una valenza negativa se andiamo a scrutare nel vocabolario accanto a perdita d'acqua piuttosto che perdita di affetti troviamo un unico concetto che è positivo ovvero a perdita d'occhio in questo caso la lingua italiana ci dà un concetto positivo cioè noi indipendentemente da quanto il nostro occhio possano vedere a perdita d'occhio vuol dire lontano io posso arrivare lontano allora se noi guardiamo la nostra capacità di spesa e diciamo nelle mie opere si ritrovano come simbologia lo scontrino fiscale la nostra capacità di spesa a certo punto può finire cioè questa perdita d'occhio diventa una perdita non c'è più e allora in quel caso che cos'è che noi perdiamo? la prima cosa che perdiamo è la mente cioè i sentimenti diciamo il nostro modo di esistere si confonde poi perdiamo le forze la capacità di movimento siamo immobili e questo lo vediamo in una mia opera ma le mie opere diciamo che spaziano un po' su questo concetto anche ambientalista che io rappresento con l'albero l'albero ci dà tanto ci dà territorio, sostanza nei nostri territori ma ci dà una cosa importantissima per noi la carta la cellulosa che ci produce carta ma noi che siamo noi uomini riusciamo a danneggiare questa cosa riusciamo a coprirla di un elemento chimico per risparmiare inchiostro e abbiamo una cosa potenzialmente nociva che non ci darà la possibilità di riciclare questo ed è la nostra carta termica che la usiamo per gli scontrini fiscali ma non solo la usiamo tantissimo e allora se pensiamo che dà un pioppo che per arrivare alla produzione di carta cioè se ci vogliono 10-15 anni di vita ma lui se fosse lì potrebbe durare 300-400 anni e produrre tanti altri pioppi questo elemento naturale ci dà solo 70 kg di carta ma per farli abbiamo bisogno di 30.000 litri d'acqua e sono tantissimi perché se una persona bevesse 2 litri d'acqua al giorno ci metterebbe 41 anni per bere tutta quell'acqua e dopodiché gli diamo una bella spalmata di bisfenolo e la gettiamo ecco questo è il mio concetto espresso attraverso le mie opere grazie a tutti grazie a tutti